Ha preso il via davanti alla porta del paradiso del Battistero del Duomo di Firenze Non sei mai stato con Dante Se, l'iniziativa su Instagram con cui Giovani Si, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, partecipa alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Non sei mai stato con Dante Se è realizzata in collaborazione con Wikipedro, creatore di video divulgativi sull'arte e la storia, con più di 300.000 follower fra Facebook, Instagram e YouTube. Giovani Si quest'anno ha deciso di ricordare i 700 anni di Dante Alighieri soprattutto entrando in contatto con i più giovani e lo facciamo con Wikipedro che ci aiuta veramente a sentirci uniti anche nei momenti più duri legandoci a quella che è la nostra storia, l'identità del nostro territorio e che ha fatto e ha reso grande, importante e conosciuta nel mondo la comunità di Firenze e della Toscana. Inizio, mi sono trasferito oggi, ho traslocato sui profili social di Giovani Si per raccontare per una settimana sette luoghi danteschi, sette luoghi che hanno caratterizzato la vita di Dante a Firenze perché questi luoghi ci sono ancora. Si pensa spesso che appunto sono passati 700 anni, Firenze sarà cambiata. Si è cambiata però ancora le tracce di Dante si riescono a rintracciare, quindi questo è l'obiettivo di questa settimana dantesca. Dopo la tappa al Battistero, Wikipedro visiterà la Torre di Castagna, il Vicolo dello Scandalo, la Chiesa di Dante e Beatrice, il Sasso di Dante, le Targhe di Dante e infine la Statua del Sommo Poeta.